Bentornati ragazzi, sono Gabri Costa. Questa è la seconda parte del livello Il Parco dei Primati, visto che sto parlando del videogioco Keo the Kangaroo. In questa seconda parte del livello noi dobbiamo raggiungere il traguardo, bisogna trovare informazioni su Jaya Baia. Non mi lasciano in pace queste scimmie, non mi mollano. Perdo sempre salute quando vengo colpito. Tuba ci sta dicendo perché azienda lavori? So cosa vuoi fare, vuoi far fuori la concorrenza? Sto cercando Jaya Baia, è l'unica cosa che mi interessa. Pensavo di aiutare i tuoi simili mentre lo cercavo. È così? Già, proprio così. Quindi? Quindi cosa? Sai dove posso trovare Jaya Baia? Probabilmente è con le chiappe sedute belle e comode sul trono. Ma davvero? Come ho fatto a non pensarci prima? È sempre un piacere essere d'aiuto. Puoi farmici arrivare in qualche modo? Io assolutamente no. Sono soltanto un umile mercante. Il capo è una figura importante. Non puoi certo arrampicarti sul suo trono e sederti sulla sua testa. Non sono qui per sedermi. Lascia stare. Comunque sia, prendi questa runa di cristallo. Se ne raccogli a sufficienza, forse potresti trovare un modo di usarle. Tipo per corrompere qualcuno per arrivare al trono della giungla. Ma non te l'ho detto io. Anzi, non ci siamo mai visti. Ciao. Oh, livello superato. Non ne potevo più dire sto parco dei primati. Io vi devo salutare. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Anzi. Ciao.